È assolutamente positivo che questi due giorni di celebrazione del Centro Club della Repubblica cominciare dal Max, che è un luogo che è proiettato sul secolo che abbiamo davanti. Dobbiamo davvero saper coniugare in Italia quello che abbiamo fatto, cioè coltivare e valorizzare il patrimonio del passato come un investimento sul futuro. E quindi guardare i 70 anni che abbiamo alle spalle, ma cominciare a costruire i 70 anni che abbiamo davanti.